Ciao a tutti, eccoci qui con un nuovo video di insieme. E prima di cominciare voglio ringraziare coloro che stanno continuando a contribuire concretamente alla crescita di questo canale, quindi coloro che con la funzione grazie, con i commenti, con le iscrizioni, con il mi piace, contribuiscono alla crescita di questo canale e questa community, quindi grazie veramente tanto a tutti voi per i feedback positivi. Allora, il video di oggi vuole essere una considerazione che è figlia di considerazione fatta la scorsa settimana, a seguito del video, ma Gesù è esistito oppure no, in cui analizzavamo il libro del professor Fernando Bebaglio Rubio, Richard Carriere, Franco Tommasi, con anche i contributi di Robert Price, Gesù è esistente, Gesù inesistente, in cui facevamo determinate considerazioni su quella che era la posizione storicista e la posizione miticista, facendo poi anche delle dovute conclusioni in merito proprio alla posizione miticista, affermando che era fin troppo radicale la pretessa secondo cui il Nuovo Testamento, il personaggio di Gesù, e soprattutto il personaggio di Gesù, fossero elementi, fossero catalizzati elementi totalmente mitici, e che quindi non potrebbe esserci alcuna pretessa di storicità. Abbiamo detto che questo radicalismo, questa posizione radicale, poteva essere figlia di un retaggio, magari ecco-illuminista, quando è nato effettivamente il modello, lo studio storico-critico, figlio di quel anticlericalismo che ha caratterizzato oggettivamente l'illuminismo. Quindi questa pretesa forte di trovare in Gesù totalmente un personaggio mitico, quasi a voler decostruire e destrutturare completamente la religione cristiana. E' giusto quindi ricordarlo che io non ho niente contro le posizioni anticlericali, ma a mio modessissimo parere, tali posizioni da tifoseria devono essere fuori, devono essere lasciate fuori da un'indagine storica completamente asettica. Quindi io continuo a considerare sempre varie da quelle prove indiziarie. Certo, non sono certezze di storicità, ma mi portano a credere ad una plausibilità storica del personaggio, ma non voglio tornarci nuovamente perché voi conoscete bene quelle che sono le mie posizioni in merito. Però, ecco, le considerazioni che faremo oggi riguardano questo doppio pesismo. Cioè, a seguito di un personaggio come Gesù, su cui gravitano effettivamente le criticità forti, criticità che vengono messe in risalto proprio dai miticisti, il fatto che non vi siano fonti coave che parlano di Gesù, che non vi siano fonti crociate, quindi non cristiane, che parlano espressamente di Gesù, o che tra i fonti siano molto interessate e molto altre ancora, ecco, su queste criticità i medicisti dicono, allora, non c'è alcuna certezza, Gesù è un personaggio mitico, però peccato che, se prendiamo in esame, un altro personaggio coevo a Gesù, personaggio che oggi vedremo, analizzeremo in qualche modo, in maniera non esaustiva, ma in maniera molto generale, che è Apollonio di Tiana, ecco, su quel personaggio, come vedremo oggi, gravitano più o meno le stesse criticità, ma i medicisti affermano, no, ma su quel personaggio comunque non abbiamo alcuna incertezza, è certamente esistito, o comunque abbiamo qualche riserva in merito alla sua esistenza o non esistenza. E quindi vediamo, mettendo in parallelo Gesù e Apollonio di Tiana, vediamo quali che sono questi parallelismi e queste criticità che in qualche modo li accomunano, però prima di iniziare è giusto dire velocissimamente chi è Apollonio di Tiana. Apollonio è stato quindi questo grande personaggio del primo secolo, coevo a Gesù, grande maestro di vita, grande maestro venerabile, grande filosofo, grande oratore, è stato anche accusato di stregoneria e di magia, come poi vedremo, e dicevo, a differenza di Gesù che ha fatto, diciamo, una vita più reclusa all'interno del recinto palestinese, facendo anche qualche tappa, come abbiamo visto anche nel video precedente, per esempio a Tiro e Sidone, nelle regioni di Tiro e Sidone, ecco, Apollonio invece ha fatto più una vita molto più aperta, ecco, molto più aperta al mondo, in Egitto, in Arabia, in Siria, addirittura a Roma, anche in Italia, era conosciuto praticamente da tutti, quindi nel primo secolo ha compiuto tante di quelle, ecco, tante di quelle azioni meravigliose, straordinarie, azioni che compiute anche allo stesso Gesù dei Vangeli, quindi se vogliamo dar per vero ciò che i Vangeli dicono, ecco, dicevo, ecco, Apollonio ha compiuto tante queste queste azioni straordinarie, che addirittura gli è valso l'incontro e il processo di fronte a un imperatore romano, quindi abbiamo un Apollonio completamente aperto alla vita pubblica, a differenza invece di Gesù, che andrà a conoscere alla fine della sua vita, come ben sappiamo, un procuratore semisconosciuto all'interno di una provincia semisconosciuta come quella della Giudea, e che lo porterà poi invece alla morte, invece Apollonio farà una fine leggermente differente, ma non tanto rispetto a Gesù. E se questi parallelismi fra Gesù e Apollonio sono comunque figli di un retaggio molto più antico, perché già alla fine del secondo secolo, per esempio, maestri apologeti come Taziano, o come Origene, cominciavano a paragonare Gesù e Apollonio e cercare di distaccarli, perché molto simili fra di loro, ecco, inizialmente noi vedremo oggi quelle che sono dei parallelismi tipo redazionale, quindi a partire proprio dalle fonti stesse che possono accumulare quella sfera di egregità, proprio Apollonio è Gesù, perché i miticisti dicono, per esempio, sì ma di Gesù nessun contemporaneo ne parla, quindi senza fare distinzione, come facciamo noi per esempio, fra il Gesù di carta e il possibile Gesù storico presente nel Nuovo Testamento, presente quindi più specificatamente nei Vangeli, ecco, quindi prendiamo per buoni i Vangeli oggi, non facciamo questa discriminante, ecco, dicono i miticisti, giustamente, ma se tutto ciò che è scritto nei Vangeli è vero, quindi tutti questi fatti straordinari legati al personaggio di Gesù, perché nessun contemporaneo ne ha mai parlato? Perché nessun contemporaneo ha mai detto, oh ma qui abbiamo un personaggio veramente straordinario che cammina sulle acque, che suscita i morti, che cura tantissime persone e tantissimi mali, eccetera, 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 che è risorto, ecco perché nessuno ne ha mai parlato, ma la stessa cosa si potrebbe anche dire di Apollonio, perché così come per Gesù, abbiamo fonti che parlano di lui, fonti scritte interessate, che parlano di lui, a 40, 50 anni alla sua morte, fino ad arrivare poi a 100 anni, quindi da un periodo di tempo che va dal 70 a più o meno al 135, 140 d.C., ecco, di Apollonio è la stessa cosa, nessun contemporaneo parla di Apollonio, addirittura le fonti a lui più vicine che parlano di lui sono antiche, o meglio, scusate, sono distanti alla sua vita di almeno 150 anni, se noi prendiamo per buono come unica fonte a noi rimasta, questa, cioè la vita di Apollonio dello scrittore filostrato, che scrive appunto questa vita di Apollonio tra il 220 e il 230 d.C., considerato che Apollonio è morto il 90 d.C., quindi siamo all'incirca 150 anni dopo la sua morte, e quindi già abbiamo una prima criticità che giustamente viene messa in risalto per Gesù, nessun contemporaneo ne parla, abbiamo fonti interessate, e allo stesso tempo abbiamo fonti tardive che parlano di lui, e che lo dipingono fin da subito, dicono i meticisti, che lo dipingono fin da subito come personaggio divino, sovrannaturale, e com'è possibile questo, se partiamo quindi dalle lettere di Paolo, se stiamo parlando di un personaggio storico o di un personaggio realmente esistito? Quindi nessun coevo ne parla, fonti tardive, e addirittura lo dipingono come un personaggio sovrannaturale e divino. Allora vediamo quelle che sono state le fonti di Filostrato, quindi Filostrato è lo scrittore che principalmente ha scritto di lui in questa opera gigantesca, quindi la vita di Apollonio. Vediamo quelle che sono le fonti di Filostrato e qui poi cercheremo di farci una nostra idea. Siamo nel libro primo, paragrafo 3. Viveva nell'antica Ninive un uomo dotato di una certa sapienza a nome Damis. Unitosi ad Apollonio per praticare la filosofia, costui lasciò il racconto dei suoi viaggi, ai quali dice di aver partecipato di persona, e ne trascrisse sentenze, discorsi e predizioni. Un parente di Damis portò a conoscenza dell'imperatrice Giulia le tavolette su cui erano scritte queste memorie, fino allora rimaste ignorate. E poiché io facevo parte del suo circolo, essa mi ordinò di trascrivere questi saggi e di curarne la pubblicazione. Quindi, fermiamoci per un attimo qui. Dice Filostrato che ha ricevuto le fonti principali di Apollonio dalla sua mecenate, dall'imperatrice Giulia Domna, che era moglie dell'imperatore Settimio Severo, siamo a cavallo tra la fine del secondo secolo e l'inizio del terzo secolo. Filostrato, che faceva quindi parte del circolo culturale curato da Giulia Domna, riceve da lei stessa queste memorie che lei dice di aver ricevuto da un parente di questo discepolo, che poi scopriremo essere il discepolo prediletto di Apollonio, scusate, di questo discepolo Damis. Quindi guardate un pochino il passaggio delle fonti, questo presunto discepolo Damis che le dà a questo presunto parente, che dice di essere questo parente, che le dà all'imperatrice, la quale dice a Filostrato, componimi una storia su questo Apollonio, quindi su questo personaggio venerabile. Quindi una storia, una storia che non vuole essere una cronaca effettiva, ma così come i Vangeli, un vero e proprio romanzo storico, potremmo dire noi. Quindi una storia proprio romanzata, una cronaca romanzata di Apollonio. Quindi vorrei capire intanto cosa c'è di diverso effettivamente dai Vangeli, a seguito anche di altre consigliazioni che dopo vedremo farà Filostrato. Ma dice ancora lo stesso autore, ho avuto in mano pure il libro di Massimo di Aigai, in cui sono raccolti tutti i casi occorso in Aigai ad Apollonio. E inoltre Apollonio composo un testamento da cui è possibile comprendere quale divino impulso lo spingesse alla filosofia. E non bisogna infatti prestare fede a Moeraigenes, che ha scritto quattro libri su Apollonio, ma tuttavia ignora molte cose su di lui. Ho dunque detto come raccolsi queste sparse informazioni e come curare di comporle nella mia opera. Quindi Filostrato cita altre fonti. Intanto ecco lo scritto di Massimo di Aigai e di Moeraigenes, che sono fonti che ad oggi non sono rimaste, quindi non sono sopravvissute fino a noi, e che ogni tanto, ecco per esempio Origine e Eusebio le citano ma in maniera molto fumosa. Ma dato che non sono fonti che sono rimaste fino a noi, che quindi soltanto Filostrato sostanzialmente ne parla in maniera concreta, e dobbiamo prestare quindi fede a Filostrato. Però peccato che gli stessi miticisti dicono che quando invece autori cristiani citano autori e libri e quindi opere cristiane che non sono sopravvissute, magari ecco opere legate al giudeo cristianesimo, alla matrice gesuana, affermano no ma non possiamo prestare fede ai padri della Chiesa in quanto nessun altro parla di quelle fonti o che quelle fonti non sono arrivate fino a noi. Anche qui doppio pesismo, due pesi e due misure. E quindi quando si cita per esempio il personaggio di Gesù affermando sì ma un personaggio così straordinario che nei Vangeli fa cose così straordinarie incredibile come ancora cento anni dopo la sua morte, quindi siamo attorno al 130 dopo Cristo, quindi siamo nella prima metà del secondo secolo, ecco si dice non era tanto conosciuto, oppure si avevano delle idee molto confuse su di lui e noi sappiamo quali sono i motivi, cioè che il cristianesimo prima dall'inizio della traduttura apologetica, quindi prima del 130-140 dopo Cristo, ecco era un movimento settare, un movimento legato quindi a circoli misterico iniziatici, era un movimento molto chiuso, nessuno effettivamente conosceva molto del cristianesimo, le informazioni erano molto fumose, quindi è chiaro che anche le informazioni, le idee che si avevano su Gesù erano molto fumose in merito, ma di Apolloni invece cos'è che si sapeva esattamente? E qua stiamo parlando dei tempi in cui scrive Filostrato, quindi stiamo parlando 150 anni dopo la morte di Apolloni, quindi tutti quanti dovevano ben conoscere questo grande maestro venerabile che ha compiuto in vita quasi le stesse cose che ha compiuto Gesù in maniera chiara e in maniera pubblica di fronte anche a personaggi importanti. Ecco sempre Filostrato nel libro primo, siamo nel paragrafo 2, quando parla di Apollonio che ha uno stile di vita simile a quello del venerabile Pitagora, ecco scrive questo. Apollonio osservò principi affini a questi e in modo ancora più divino di Pitagora seppe accostarsi alla sapienza e sollevarsi al di sopra dei tiranni, ma benché si è vissuto in tempi non remoti e né troppo recenti, gli uomini, attenzione, gli uomini non lo conoscono ancora per la vera sapienza che esercitò da filosofo e secondo virtù. Della sua personalità alcuni esaltano un aspetto, altri un altro. E dato che si incontrò con i magi in Babilonia, con i bramani dell'India e con i gimnosofisti che vivono in Egitto, vi è pure chi lo ritiene un mago e lo accusa di aver praticato la stregoneria, ma lo fa per ignoranza. Quindi ancora ai tempi di Filostrato, quindi siamo a 150 anni dopo circa la morte di Apollonio, le idee su di lui erano ancora molto 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 confuse. Intanto ognuno aveva un'idea diversa su di lui. Sembra quasi ricordare i tanti aspetti che abbiamo di Gesù nel Nuovo Testamento, più volte l'abbiamo detto, i tanti Gesù presenti nel Nuovo Testamento, e cercare di cogliere quello che era il possibile vero Gesù storico. Allo stesso tempo Filostrato dice che ancora non si aveva una concretezza, una idea concreta di quello che poteva essere davvero il personaggio di Apollonio. Ma com'è possibile, dopo 150 anni, non avere ancora concretezza del suo personaggio? Ma scrive ancora Filostrato, ho dunque deciso di non tollerare l'ignoranza generale e di offrire un'immagine veritiera di quest'uomo, precisando in quali circostanze egli pronunciò le sue parole o compì i suoi atti, e grazie a quali caratteri della sua sapienza venne considerato un essere sovrannaturale e divino. Quindi facciamo due considerazioni. Numero uno, Filostrato dice, adesso vi dico io come sono andate effettivamente alle cose. Cioè, il Filostrato sta componendo per conto di Giulia Domana e la sua imperatrice e la sua mecenate, potremmo dire così, un'opera commissionata. Quindi un'opera commissionata in base alle fonti che noi abbiamo quindi visto prima, attenzione, quindi fonti tardive, fonti del tutto anonime. E stessa cosa, nello stesso tempo dice Filostrato, grazie a quali caratteri della sua sapienza viene considerato un essere sovrannaturale e divino. Quindi Filostrato ci dice che a quei tempi uno come Apollonio era considerato un essere sovrannaturale e divino, un po' come il Gesù di Paolo. Ma noi sappiamo perché Gesù di Paolo era considerato divino, per quali motivi? E vediamo, abbiamo già visto nei video precedenti come Gesù di Paolo, o meglio Paolo stesso, consigliasse Gesù sia un essere divino, ma allo stesso tempo ne conoscesse il retaggio invece terreno, ma lo volesse totalmente ignorare. Quindi se noi prendiamo intanto quelle criticità di tipo redazionale, per entrambi i personaggi le fonti sono tardive, nessun coevo ne parla e i contemporanei degli autori affermano che vi sono tanti aspetti dei due personaggi che vengono considerati in un modo o nell'altro dai vari lettori, dai vari conoscitori, allo stesso tempo non vi era una certezza reale, concreta, una concretezza dell'identità dei due, qui dopo tanti anni, e allo stesso tempo abbiamo fonti anonime. Quindi così come i Vangeli, nonostante si dica che è stato scritto da, ecco, Marco, Luca, Matteo e Giovanni, ma sono autori tutto anonimi, siamo nella pseudepigrafia, stessa cosa qui. Si dice che le memorie siano del discepolo d'Amis, ma non sappiamo se sia effettivamente vero. Filostrato però lo prende per buono, e lo prendono per buono anche da quel che sembra anche i miticisti. I miticisti che dicono sì, ma in realtà comunque sono fonti che riporta Filostrato, che è comunque il personaggio su cui ci sono pochi dubbi. Ma arriviamo adesso ai due personaggi, al parallelismo tra i due personaggi. Ripeto ancora una volta, però soltanto alcuni aspetti generali, non entro proprio nello specifico. Partiamo per esempio dalla nascita dei due. Noi sappiamo per esempio che nel momento del concepimento, e questo ce lo racconti in maniera molto più chiara del Vangelo di Luca, in quello che è l'episodio dell'Annunciazione abbiamo l'avvento di un personaggio divino, quello che noi consigliamo un angelo, un messaggero tale Gabriele. Gabriele che afferma che Maria, una giovane ragazza vergine, concepirà per opera lo Spirito Santo. E già nel nostro libro, quello scritto con Mauro Billino d'Esemidei, citando di studi del cardinale gesuite e teologo Jean Danielou, in merito proprio alla teologia del giudeo cristianesimo, ecco, si è visto come in realtà Gabriele, nel solco di quella e di quel recinto, di quella cultura, ecco, Gabriele e lo Spirito Santo sono in realtà la stessa persona, quindi Maria sembra essere stata ingravidata, messa incinta dall'angelo Gabriele. In riferimento anche a ciò che è scritto nel Prato Vangelo di Giacomo, secondo cui gli angeli appunto ingravidano le giovane ragazze vergini. Quindi niente di diverso da quello che si conosceva nella cultura ellenistica, per esempio, del tempo, cioè gli esseri divini che scendono dal cielo e ingravidano giovane ragazze vergine. Ma anche qui leggiamo quello che vi è scritto sul concepimento di Apollonio. Siamo sempre nel libro primo, paragrafo 4. Patria di Apollonio fu Tiana, una città greca nel paese di Cappadocia. Il padre portava il suo stesso nome, la famiglia era antica e discendeva dai primi fondatori della città. Quando era incinta di lui, alla madre apparve un demon egizio, quel Proteo che in Omero muta varie forme. Senza provare timore, essa gli chiese di chi si sarebbe sgravata, ed egli rispose di me. Repicò la donna, e tu chi sei? Proteo, disse, il dio dell'Egitto. Quale fosse la sapienza di Proteo non è necessario spiegare a chi leggi i poeti. Era multiforme e si tramutava di momento sottraendosi a ogni cattura. Sembrava conoscere e prevedere ogni cosa. Dovremmo ricordarci di Proteo soprattutto nel seguito della storia, quando Apollonio apparirà dotato di virtù profetica più che Proteo stesso. E lo vedremo superare molte difficoltà e perigli, proprio nel momento in cui più grave era la minaccia. Quindi qua abbiamo, anche in questo caso, un incontro fra un essere divino, qua mi ha citato un demone, ma attenzione a non fare l'errore di consigliare il demone greco come il demonio cristiano. Il demonio cristiano sappiamo cos'è esattamente. Il demone greco invece è l'intermediario fra il mondo divino e il mondo umano. Potremmo dire un semidio, anzi più che altro un vero e proprio angelo custode, un vero e proprio quasi protettore degli uomini, di più e le volte. Quindi da una parte abbiamo l'angelo Gabriele che raggiunge, ma lì dall'altra il demone, l'angelo custode, tra virgolette, ellenistico, che invece raggiunge la madre di Apollonio e che sembra rivendicare la nascita stessa di Apollonio. Quindi anche questo è un primo parallelismo interessante, un'annuncezione che riceve anche la madre di Apollonio. E per quanto riguarda poi il momento in cui Gesù entra ufficialmente alla vita pubblica, quello che è il famoso battesimo, noi non ci mentichiamo, no? Che in alcune fonti cristiane, sia eterodosse che ortodosse, per esempio in alcuni codici del Vangelo di Matteo, abbiamo ecco questa esplicitazione della generazione divina di Gesù nell'atto del battesimo. Cioè quindi quando Gesù si battezza, si aponi i cieli e la voce dice questo è il mio figlio prediletto, io oggi l'ho generato. Ripeto, in alcuni Vangeli, come per esempio il Vangelo di Nazirei, il Vangelo degli Ebrei, il Vangelo degli Ebioniti, o anche in alcuni codici del Vangelo di Matteo, così come racconta il Cardinal Danielu, ma non solo lui, ecco, all'interno di quel recinto dell'atologia giudeocristiana. E sempre in quella matrice dell'atologia giudeocristiana si parla anche di questo Giordano che sembra prendere fuoco, cioè che si illumina come il fuoco, quindi un dualismo Giordano-fuoco che è presente nei più antichi codici. E allo stesso tempo vediamo come l'atto battesimale di Giovanni il Battista serve proprio a purificare quasi le persone, quindi a trasformarle in qualche modo, quindi a renderle persone migliori, persone buone, quindi persone nuove, mentre prima erano peccatori. Quindi non dimentichiamoci questi elementi quando adesso leggeremo questo piccolo frammento. Siamo sempre nel libro 1, paragrafo 6. Scorre presso Tiana un'acqua sacra Zeus, protettore dei giuramenti, come dicono il cui nome è Asbamea. La fonte da cui sgorga è gelida, ma ribolle come una caldaia posta sul fuoco. Per chi tiene fede ai giuramenti quest'acqua è propizia e dolce, ma degli spergiuri fa immediatamente giustizia. S'attacca infatti agli occhi e alle mani e ai piedi, ad essi si ammalano di tropisie e di tisi. Ne possono allontanarsi, ma sono costretti sul posto e piangono ai bordi dell'acqua, riconoscendo i loro falsi giuramenti. La getta del luogo, dice che Apollonio, era nato da questo Zeus. Quindi si associa all'elemento dell'acqua, un'acqua, attenzione, che vuole, che fa discriminazione fra i peccatori e le persone giuste, un pochino come l'atto battesimale Giovanni Battista, un'acqua che è calda, che sembra essere come fuoco, un pochino come il Giordano, e allo stesso tempo proprio per quest'acqua si associa la figura di Apollonio con la figliolanza divina con Zeus addirittura. Quindi questo è un parallelismo certo molto più sfumato, ma molto molto interessante che molti dei miticisti mettono comunque in, sottolineano grandissimamente. Ma senza soffermarsi troppo poi sulla vita intera di Apollonio, che è simile a quale Gesù in molte cose che fa, quindi in molti miracoli che compie, come dicevo non vuole essere esaustivo questo video nel paragone, ma a mettere in risalto quelli che sono delle interessanti parallelismi, ecco allo stesso tempo si parla del processo di Apollonio, perché come noi ben sappiamo, Gesù ha subito un processo, un processo che lo voleva spergiuro per aver bestemmiato contro Dio, siamo nel campo puramente razionale, ma facciamo finta che sia vero. Ecco oggi facciamo questa piccola eccezione, Gesù si incontra di fronte a Ponzo Pilato, un procuratore della Giudea semi sconosciuto, perché abbiamo pochissime prove storiche su di lui, pochissimi frammenti, pochissimi riferimenti, un procuratore della Giudea semi sconosciuto di una provincia romana forse delle meno considerate, ma che a quei tempi era molto importante per quello che stava comunque accadendo. E dicevo Gesù alla fine della sua vita pubblica, proprio nel climax della sua vita pubblica, e chi incontra per poche ore è questo procuratore della Giudea, quindi l'unico vero incontro con una persona importante del tempo, comunque pubblicamente conosciuta, la fa in poche ore in tutta la sua vita. Anche Apollonio subisce un processo, un processo per stregonerie e per magia, ma non di fronte a un procuratore semi sconosciuto in una provincia strana, quasi all'impero romano, ma a Roma di fronte a l'imperatore, l'imperatore Domiziano. Siamo, diciamo, attorno al 90 d.C. e di fronte a questo processo, non me la faccio troppo lunga, di fronte a questo processo, ecco, Apollonio si difende, però poi a un certo punto dall'alto del suo ego, quindi della sua importanza, anche divina, che lui conosceva a se stesso, ecco decide a un certo punto di compiere un atto straordinario, ormai seccato da quel processo. Quindi, tale era dunque, siamo nel libro ottavo, paragrafo 8, tale era dunque il discorso preparato da Apollonio, e alla fine di esso ho riscontrato le medesime parole con cui si conclude il precedente, ossia, non mi ucciderai infatti, poiché non sono mortale. È la frase che viene prima, da cui trave motivo questa citazione. Quando dunque scomparve dal tribunale in modo sovranaturale e inspiegabile, il tiranno, quindi l'imperatore, non ebbe la reazione che i più si attendevano. Si pensava infatti che avrebbe lanciato urla tremende e avrebbe bandito la caccia all'uomo, proclamando per tutto il suo impero di arrestarlo dovunque si trovasse. Megli non fece nulla di tutto ciò, come se si studiasse di contrastare l'aspettativa della gente, oppure avesse al fine compreso che non aveva alcun potere contro di lui, e se poi agisse così perché il sentiva superiore possiamo valutarlo agli arimenti successivi. Ci appairà infatti sconvolto, più piuttosto che pieno di disprezzo. Il tiranno era infatti turbato e incerto, non più che era stato persuaso dai due datori che nulla poteva sfuggirgli. Lasciando il tiranno in queste condizioni, dopo aver ridotto a Zimbello e la sua filosofia il terrore dei greci e dei barbari tutti, Apollonio, avanti mezzogiorno, scomparve dal tribunale. E verso sera apparve in Deciarchia a Demetrio e a Damis. Quindi abbiamo addirittura un fatto straordinario, incredibile, in cui Apollonio scompare nel nulla di fronte all'imperatore e a tutti i presenti, quindi di fronte anche alla sua corte, di fronte quindi anche a tutti gli intellettuali che erano sicuramente insieme all'imperatore. E quindi torna prepotentemente la prima criticità che ne abbiamo messo in evidenza. Perché nessun contemporaneo parla di Gesù? E se questa criticità vale per Gesù, per i meticisti, ma possiamo farla valere anche per noi? Effettivamente è una considerazione interessante, perché nessun contemporaneo parla di Gesù? Ma una spiegazione può essere data proprio per il suo carattere, ecco, marginale, diciamo così, ma stessa cosa non possiamo dire per Apollonio. Apollonio non solo è un maestro venerabile in tutto il mondo allora conosciuto, ma viene processato direttamente da un imperatore e compie un gesto eclatante di fronte all'imperatore che in quel momento, così come dice Filostrato, in quel momento rimane basito. Cioè tutti quanti si aspettavano quella che è sempre stata la prova di forza di un Domiziano, che è un imperatore, ecco, forte, rigido, che ha il pugno di ferro, di fronte a quello, ecco, che Domiziano rimane basito. Qui sembra ricordare quasi il Pilato che è storicamente riconosciuto come un malfattore, che è riconosciuto come un corrotto, che è riconosciuto come, ecco, uno che utilizza il pugno di ferro contro i messianisti, nei Vangeli invece è Mansueto. Addirittura rilascia un messianista conclamato come Barabba per condannare invece uno come Gesù di fronte agli ebrei che lo incitano. Quindi anche qui il paralismo è interessante, l'autorità che rimane basita di fronte a un fatto straordinario, a un atto straordinario. Però per Gesù viene detto sono criticità evidenti, evidenti criticità che ci fanno credere che il personaggio è sicuramente mitico, per Apollonio invece no. I due pesi e due misure di fronte a due personaggi che sono contemporanei fra di loro, ok? E allo stesso tempo la domanda di prima, perché nessun contemporaneo ne parla? Per Gesù una spiegazione può essere in qualche modo data, può essere non convincente ma può essere data, per Apollonio no. Com'è possibile che nessun contemporaneo di Domiziano parli di questo fatto straordinario, di questo fatto meraviglioso? Addirittura personaggi come Ierocle, come Castodione, che scrivono anche dopo Filostrato, ecco nessuno di questi addirittura ricorda questa cosa, questo fatto straordinario di fronte all'imperatore. Se fosse stato Gesù a quest'ora sarebbero levati gli scudi e avremmo urlato al miticismo e quindi alla creazione mitica del personaggio. Per Apollonio questa cosa non si fa. E per ultimo, per ultimo ecco, parliamo della fine di Apollonio, perché è molto simile in qualche modo a quella di Gesù. Infatti noi sappiamo che Gesù è asceso al cielo, che però è comparso dopo morte ai suoi discepoli, quindi dando delle disposizioni, e di Apollonio invece cosa viene detto? Siamo nel libro ottavo, paragrafo 30. Alcuni raccontano che si spensa a Efeso, assistito da due ancelle, poiché erano ormai morti i liberti di cui ho parlato all'inizio. Altri dicono che sia morto a Lindo, dove sarebbe entrato nel tempio di Atene, scomparendo alla vista nel suo interno. Altri ancora sostengono che la sua morte avvenne in Creta, in modo ancora più straordinario che nel racconto di Lindo. E tuttavia, anzi scusate, infatti Apollonio si trovava a Creta, oggetto di ammirazione ancora maggiore che in precedenza, e si era recato al tempio di Dictinna in un'ora in debita. Questo tempio è costruito da cani a difesa dei tesori che vi si trovano, ed è opinione dei cretessi che questi non si lasciano vincere, né dagli orsi né da altri animali altrettanto feroci. Ma al suo arrivo i cani non abbagliarono neppure e gli si fece un incontro muovendo la coda, come non erano soliti neppure con i custodi consueti. E quando egli quindi fu entrato nel tempio, le porte si chiusero come se fossero sbarrate, e si udì una voce di fanciuglie che cantavano. Il loro canto diceva, vieni dalla terra, vieni in cielo, vieni. Sembra quasi ricordare, ecco, il grido esortativo dei discepoli, no? Quel mara natà, vieni signore fe presto a seguito della scomparsa di Gesù da vivo nei cieli. Qui abbiamo le fanciulle che dicono, vieni, vieni dalla terra, vieni in cielo, vieni. Il mara natà è, vieni signore fe presto. Anche qui un parallelismo magari molto sfumato, comunque molto interessante. E tuttavia, sono alla conclusione, e tuttavia continuò a dimostrare che l'anima è immortale, insegnando che quanto si dice a questo proposito è veritiero, ma intimando di non passare i limiti allorché si vogliono investigare segreti di tale importanza. Era infatti arrivato a Tiano un ragazzo molto animoso nelle discussioni, incapace di cedere a un'esatta argomentazione. Apollonio non era ormai più tra gli uomini, e ci si interrogava sul modo della sua scomparsa, ma nessuno osava revocare in dubbio che non fosse immortale, quindi erano certi alla sua immortalità, che era tipica degli dei, eh? E ogni discussione aveva per argomento l'anima, dato che vi erano molti giovani amanti della sapienza. Ma il ragazzo non voleva assolutamente riconoscere l'immortalità dell'anima. Io, diceva, cari miei, già da nove mesi supplico Apollonio che mi riveli la verità intorno all'anima, ma egli ora è morto e non può risuscitare alle mie preghiere, né dimostrarmi di essere immortale. Degli altri giovani che studiavano con lui, alcuni leggevano, altri disegnavano, quando improvvisamente come un folle, questo ragazzo, balzò in piedi ancora in mezzo addormentato, gridando, ti credo. I presenti gli chiedevano cosa fosse successo, ed egli, ma non vedete? Apollonio, il sapiente, che sta fra noi, ascoltando i nostri discorsi e mirabili versi, recita intorno all'anima. E dove mai? Dicevano gli altri. Da nessuna parte ci appare, sebbene questo noi bremeremo più che possedere tutti i banchi del mondo. E il giovane è evidentemente venuto per parlare a me solo di quello a cui non prestavo fede. Ascoltate dunque i suoi versi ispirati. Quindi sembra ricordare intanto quel personaggio di Tommaso a memoria, no? Il Tommaso, il Tommaso, il Vangelo di Tommaso che era quello che non aveva fede sulla resurrezione di Gesù e che poi è stato uno dei discepoli prediletti all'interno di quella letteratura apocrifa. Ma poi abbiamo un Apollonio che è comunque in mezzo a loro, un pochino come Gesù che prima dell'ascensione è in mezzo ai discepoli proprio per ammaestrarli. È un Gesù che non è mai effettivamente morto, che è immortale, così come Apollonio che è in realtà immortale, non è mai veramente morto, che è scomparso, che altre fonti, così come Filostato, altre fonti ci dicono che può essere asceso al cielo, quindi è andato con gli dèi in cielo, rapito, così come è accaduto con Gesù. Quindi se noi volessimo un pochino fare il sulto di quello che abbiamo detto, ecco abbiamo per entrambi fonti tardive, fonti interessate, fonti anche scomparse, che ce ne parlano altri autori, però fonti scomparse che non sono giunte sino a noi, oltretutto fonti anonime, allo stesso tempo nessun coevo che parla dei due personaggi, e entrambi i personaggi, se proprio vogliamo entrare all'interno delle fonti, entrambi i personaggi hanno ricevuto una vistazione durante il loro concepimento, entrambi i personaggi hanno compiuto enormi miracoli, fantastici miracoli, entrambi i personaggi sono stati quindi processati, ma a differenza di Gesù che si è limitato a morire e poi sopravvivere a quella crocifissione, con modalità di cui abbiamo già parlato più volte, Capollonio invece scompare magicamente, incredibilmente, di fronte addirittura a un imperatore, e questo fatto straordinario non è registrato però da nessun contemporaneo e da nessun storico dell'epoca, però secondo tutte queste criticità, addirittura i due personaggi sono considerati all'epoca, ecco, dei loro redattori, sono considerati sovranaturali e divini, nessuno sta escludendo una loro esistenza terrena, il loro essere comunque terreni, ma per entrambi si parla di essere sovranaturali ed essere divini, e soprattutto si dice che entrambi sono giunti agli dei che sono quindi sopravvissuti e rimasti comunque immortali, ma di uno viene detto il suo carattere mitico è indiscutibile, non c'è nessuna prova neanche iniziare in metodo, tutto quanto lascia presupporre che sia, ecco, mitico a seguito di queste criticità che vengono messe in chiaro di Apollonio, stesse criticità, ma la sua esistenza non c'è nessun dubbio, è un personaggio storico. Ecco perché dico che sono crescita evidenti per uno, lo devono essere anche per l'altro, quindi io vado a denunciare, diciamo così, a condannare questo doppio pesismo, un doppio pesismo che come abbiamo detto in qualche video precedente può essere figlio appunto di quell'anticlericalismo forte che a mio potessissimo parere deve essere fuori da ogni indagine storica che deve invece essere asettica e la più pulita possibile, la più laica e anche la più neutrale possibile. Quindi vi lascio con le considerazioni fatte oggi, spero di essere stato abbastanza chiaro, lascio a voi le conclusioni, ulteriori considerazioni, magari scriverle qui sotto nei commenti, vi ricordo i miei canali social Esposito Francesco Scrittore per Facebook, Francesco Esposito per Youtube e noi ci vediamo alla prossima chiacchierata e al prossimo video insieme. Ciao a tutti e ancora grazie.